ragazzi buongiorno allora mi sono fatto la doccia al a6 è un'avia non si chiede la chiave libero io mi sono fatto una doccia forse ce n'è solo una perché non ho visto l'altra in un armadio di sabine con doccia è abbastanza grande un po mal ridotta allora aspetto positivo che libera free aspetto negativo un po mal ridotta ciao ragazzi